Noi ci siamo dati come missione quella di rendere le piccole e medie imprese e i professionisti italiani più competitivi attraverso la digitalizzazione e l'innovazione. Oggi l'opportunità è enorme, l'ondata tecnologica che stiamo attraversando o cavalcando, quindi penso al cloud, penso al mobile, penso alla connettività continua, fa sì che soluzioni di competitività e produttività, una volta appannaggia solo di grande realtà, oggi siano potenzialmente disponibili o rese disponibili ai milioni di partite IVA che fanno il backbone dell'economia italiana. È chiaro che per farlo, per cogliere questa opportunità, c'è bisogno di un livello e una velocità di innovazione mai vista prima. Quindi l'innovazione interna non basta più, ci dobbiamo aggiungere l'innovazione esterna, l'open innovation in corporate venture capital. In questo abbiamo una storia di successo. L'anno scorso abbiamo fatto 12 acquisizioni, tutte riconducibili a questo mondo in qualche modo del corporate venture capital. Abbiamo sviluppato una nostra ricetta alla fine che è fatta di tre punti sostanzialmente. La prima è quella di gestire questo corporate venture capital come farebbe appunto un fondo o un venture capital, quindi con un'extra attenzione più che proporzionale rispetto alla dimensione del business. La seconda è quella di tenere empowered, allineato, a bordo e al comando l'imprenditore e il fondatore. E il terzo è quello di dare una chiara aderenza strategica tra quello in cui investiamo e il nostro core business. Noi le facciamo fondamentalmente per tre motivi. Cerchiamo soluzioni innovative, cerchiamo skill e cerchiamo cultura. Gli esempi migliori di successo sono stati quelli in cui uno di questi elementi era proprio un chiaro caso di contributo aggiuntivo. Mi viene in mente il fattore in cloud, che era una soluzione per la fatturazione elettronica sviluppata da un ragazzo 22enne togliendo tempo lo studio che in sei mesi ha fatto quello che noi non eravamo riusciti a fare con un intero riparto di ricerca e sviluppo in due anni. O mi viene in mente il caso di Mondora, che è un'azienda che fa soluzioni SAS per il mondo finanziario, che ha portato tutta una contaminazione culturale perché loro sono una B Corp, perché applicavano agile development e quindi hanno addirittura contaminato non solo con skill e con soluzioni, ma anche proprio con un approccio culturale diverso al nostro ecosistema di sviluppo. Insieme, metto insieme queste due cose, siamo riusciti l'anno scorso, tanto per dare un esempio virtuoso, a intermediare 3 milioni, 4 milioni anzi di fatture elettroniche sulle nostre piattaforme, nate dalla cooperazione di queste due start-up a fatture in cloud e a Mondora, in cui noi abbiamo investito, cosa che da soli non saremmo mai riuscire a fare.